Non pensavi di essere così felice di vederla crescere. Avevi paura che col tempo il vostro rapporto non sarebbe più stato speciale. E poi hai scoperto Mini Regeneration. E ti sei accorto che a volte gli anni portano vantaggi che non pensavi di avere. Scopri Mini Regeneration per la tua Mini con più di 4 anni. Per te sconti dal 30 al 50% sugli interventi di manutenzione. Vieni su regeneration.mini.it. Ti basta la targa.